Questa sera ascoltiamo la seconda parte della Passione secondo San Luca, narrata e anche in parte cantata, come si faceva in questa cattedrale nei secoli antichi, fra Cinque e Seicento. Infatti alcune parti del testo della Passione che voi avete a disposizione sono state messe in musica da un anonimo compositore fiorentino della fine del Cinquecento e che ho ritrovato appunto in un manoscritto dell'archivio storico di Santa Maria del Fiore. Quindi alcune frasi, sentirete, sono appunto cantate. Inoltre verranno cantati anche due responsori della Settimana Santa, questi sono di Marco da Gagliano, uno sempre durante la lettura della Passione e uno invece in conclusione. Cioè dopo che sua eminenza il cardinale Giuseppe Betori avrà letto il suo commento, la sua esegesi appunto al testo della Passione. Si faceva così anche in antico, dovete pensare che queste narrazioni avvenivano ovviamente durante la Settimana Santa, ora noi le distribuiamo un po' diciamo nel periodo di Quaresima e era proprio prevista appunto questa alternanza fra le parole e la musica e chiaramente la musica serviva e serve a intensificare proprio il significato del testo. Quindi le parole messe in musica che sono soprattutto gli interventi della turba, del popolo, mettendole in musica gli si dava appunto un risalto ovviamente maggiore. Quindi per trasmettere ancora meglio l'emozione della sofferenza, della narrazione appunto della passione. Ringrazio ancora una volta l'opera di Santa Maria del Fiore per il sostegno a questa iniziativa che fa parte della venticinquesima edizione della rassegna musicale Flosco Lende e ringrazio ovviamente il cardinale Arcivescovo per il dono che ci fa di queste preziose esegesi bibliche. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca Capitolo 22 versetti 39 e 71 Usci e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro Pregate per non entrare in tentazione Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso Cadde in ginocchio e pregava dicendo Padre, se vuoi allontana da me questo calice Tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo Entrato nella lotta Pregava più intensamente E il suo sudore diventò come goccia di sangue Che cadono in terra Poi, rialzatosi dalla preghiera Andò dai discepoli E li trovò che dormivano per la tristezza E disse loro Perché dormite? Alzatevi e pregate Per non entrare in tentazione Mentre ancora egli parlava Ecco, giungere una folla Colui che si chiamava Giuda Uno dei dodici Li precedeva E si avvicinò a Gesù per baciarlo Gesù gli disse Giuda, con un bacio Tu tradisci il figlio dell'uomo Allora quelli che erano con lui Vedendo ciò che stava per accadere Dissero E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote E gli staccò l'orecchio destro Ma Gesù intervenne dicendo Lasciate Basta così E toccandogli l'orecchio Lo guarì Poi Gesù disse a coloro che erano venuti Contro di lui Capi dei sacerdoti Capi delle guardie del tempio E anziani Come se fossi un ladro Siate venuti con spade e bastoni Ogni giorno Ero con voi nel tempio E non avete mai messo le mani su di me Ma questa è l'ora vostra E il potere delle tenebre Ero con voi nel tempio 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 Dopo averlo catturato Lo condussero via E lo fecero entrare Nella cassa del sommo sacerdote Pietro lo seguiva da lontano Avevano acceso un fuoco In mezzo al cortile E si erano seduti attorno Anche Pietro Sedette in mezzo a loro Una giovane serva Lo vide seduto vicino al fuoco E guardandolo E guardandolo attentamente Anche questi era con lui Ma egli negò dicendo O donna non lo conosco Poco dopo un altro lo vide E disse Anche tu sei uno di loro Ma Pietro rispose O uomo non lo sono Passata circa un'ora Un altro insisteva In verità Anche questi era con lui Infatti è Galileo Ma Pietro disse O uomo non so quello che dici E in quell'istante Mentre ancora parlava Un gallo cantò Allora il Signore si voltò E fissò lo sguardo su Pietro E Pietro si ricordò Della parola che il Signore Gli aveva detto Prima che il gallo canti Oggi mi rinnegherai tre volte E uscito fuori Pianse amaramente E intanto Gli uomini che avevano In custodia Gesù Lo deridevano E lo picchiavano Gli bendavano gli occhi E gli dicevano E molte altre cose Dicevano contro di lui Insultandolo Appena fu giorno Si riunì il consiglio Degli anziani del popolo Con i capi dei sacerdoti E gli iscrivi Lo condussero davanti Al loro sinedrio E gli dissero Rispose loro Anche se ve lo dico Non mi crederete Se vi interrogo Non mi risponderete Ma d'ora in poi Il figlio dell'uomo Siederà alla destra Della potenza di Dio Allora tutti dissero Ed egli rispose loro Voi stessi Dite che io lo sono E quelli dissero E quelli dissero Il racconto della passione Del Signore Dopo l'antefatto Della cena Entra nel vivo Degli avvenimenti Ma la narrazione Della cena Ci ha già segnalato Che ci sarà Un discepolo Traditore E un altro discepolo Rinnecherà il maestro Soprattutto Nei gesti compiuti Durante la cena Gesù ha svelato Il significato Del suo imminente sacrificio E ha lasciato ai suoi Un testamento Ora Gesù Con i suoi discepoli Va nel luogo abituale Della preghiera Al monte degli olivi Il racconto che Luca fa A questo punto Si differenzia Notevolmente Dai racconti Che troviamo Nei Vangeli di Marco E di Matteo Con omissioni E aggiunte Che vanno interpretate Per comprendere Il senso Che Luca Vuole dare Alla preghiera Di Gesù Che precede Il suo arresto Luca Tralascia Il nome del luogo Verso cui Gesù Si dirige Il Getsemani Mentre indica Il monte Alla cui falde Questo luogo si trova Questo perché Il monte Nel Vangelo di Luca Il luogo Della preghiera Di Gesù E nella sua ultima settimana Egli ci ha detto Durante il giorno Insegnava nel tempio La notte usciva E pernottava All'aperto Sul monte Detto Degli olivi E anche in quest'ultima notte Egli Come al solito Sottolinea L'Evangelista Si ritira Lì in preghiera Con i discepoli Che lo seguono Mentre Marco E Matteo Ma anche Giovanni Ci presentano Un Gesù Angosciato Turbato E poi Prostrato L'Evangelista Luca L'Evangelista Luca Ci presenta invece Un Gesù Fiducioso Nel momento Della prova Chiede Solo preghiera La sua passione Viene proposta Come un modello Per i martiri cristiani Ed egli vive Già Ciò che egli aveva chiesto Per costoro Quando vi porteranno Davanti alle sinagoge Ai magistrati E all'autorità Non preoccupatevi A sorreggere il coraggio Nella prova È però Necessaria La preghiera Come viene ripetuto Da Gesù Ai discepoli Per ben due volte All'inizio E in chiusura Di questo brano Pregate Per non entrare In tentazione E anche la richiesta Che Gesù Aveva posto A conclusione Della preghiera Che aveva insegnato Ai discepoli Non abbandonarci Alla tentazione Un'espressione Che implica L'esigenza Sia Di non entrare Nella tentazione Sia Di non soccombere In essa Si profila Il grande scontro Di Gesù Con Satana E questa sarà Una prova Che si ripresenterà Nel cammino Dei discepoli Come si presenti Questa prova Per Gesù È racchiuso In un termine Greco Che è Agonia Lotta L'immagine Che ci viene offerta È quella Di un atleta Al colmo Dello sforzo Per la vittoria Anche il sangue Che scorre Sul volto di Gesù Non è il frutto Della paura Del terrore Ma è l'esito Dello sforzo Che gli compie Per affrontare L'avversario Gesù non deve Vincere Lo sgomento Di fronte Alla prospettiva Della morte Egli manifesta La fragilità Umana Ma la sua volontà È unita A quella del padre Padre Se vuoi Allontana da me Questo calice Tuttavia Non sia fatta La mia Ma la tua Volontà E la comunione Del figlio Con il padre È attestata Dal soccorso Che gli comunica L'angelo Inviato A portargli Conforto Gesù È modello Di preghiera Per i suoi discepoli Questi invece Vinti Dalla tristezza Per ciò Che si Preannuncia Cadono Nel sonno E non pregano Solo la preghiera Da cui giunge L'aiuto divino Permette All'uomo Di non Soccombere Nella prova Così è Per l'umanità Di Gesù Chi non prega Non riesce A cogliere Il significato Di quanto Sta accadendo E lo mostreranno Di lì a poco I discepoli Una folla Minacciosa Si pone A questo punto Di fronte a Gesù E mezzo ad essa Appare Giuda Che racconta Evidenza Come uno Dei dodici Cioè del gruppo Dei discepoli Che Gesù Stesso aveva scelto Perché divenissero Suoi apostoli Stessero con lui E fungessero Da annunciatori Del suo Vangelo E ora Proprio uno di loro Sta per tradirlo E cerca Di farlo Indicandolo Con il gesto Di un saluto Amichevole A chi è venuto Per arrestarlo L'attenzione Di Luca A evitare Tutto ciò Che può apparire Un saluto Un saluto Un saluto Un saluto Un saluto Ma Luca La profezia Sul servo Sofferente Del libro Di Isaia E la rivelazione Dell'uomo celeste Del libro Di Daniele Nella umanità Di Gesù Che viene tradita Si sta Rifiutando La presenza Di Dio Tra gli uomini Il Signore Come lo chiamano Degli appoghi Discepoli Il cui volto divino Apparirà Al termine Della passione Nella risurrezione Il dramma Che inizia Con il tradimento E l'arresto Di Gesù È il rifiuto Stesso Di Dio Della sua presenza Nella storia Degli uomini Quale sia Il volto Di questo Dio Non lo comprendono Neanche Gli altri discepoli Che di fronte All'ostilità Contro il loro Signore Pensano di reagire Con la violenza Con la spada La reazione Di Gesù È decisa È un secco Imperativo Lasciate Basta così Un imperativo Che frena La violenza E soprattutto È accompagnato Da un gesto Di misericordia Con cui Guarisce Gesù L'orecchio Del servo Del somo sacerdote Ferito dalla spada Di uno dei discepoli La logica di Gesù Anche nel momento Dell'arresto Resta quella Dell'amore Mentre i discepoli Mostrano Di condividere Ancora La logica Del mondo Cioè Della difesa Di sé Dell'uso Della forza Questo punto Gesù Prende lui L'iniziativa E si rivolge A chi è venuto A prenderlo Ma avendo Come destinatari Coloro che hanno Inviato la folla I mandanti Del suo arresto E quindi Dell'intera passione Capi dei sacerdoti Capi delle guardie Del tempio E anziani Le parole di Gesù Si aprono Con il sottolineare Come il modo Dell'arresto Lo assimili A un brigante A un bandito A un uomo Violento Per il quale È necessario Intervenire Con spade E bastoni Lui Che anche Nell'arresto Non cessa di fare Del bene a tutti Anche ai suoi avversari Viene trattato Come un malfattore E tra due malfattori Verrà crocifisso Ma la denuncia Di Gesù Continua Nel sottolineare Come il suo arresto Avvenendo di notte Riveli la sua Illegalità Se non fosse Un ingiusto sopruso Non si spiega Perché Chi viene a cotturarlo Non lo abbia fatto Di giorno Mentre egli pubblicamente Insegnava nel tempio Le circostanze E le modalità Della cattura Di Gesù Mostrano Come essa Sia stata Un atto iniquo Privo Di ogni fondamento Giuridico Gesù È un Innocente Perseguitato La conclusione Delle parole Di Gesù Ha un alto Valore teologico In quanto Colloca L'arresto E tutta la passione Nel contesto Dell'agire Del maligno Nella storia Questa Dice Gesù È anzitutto La sua ora L'ora del maligno In quanto Chi agisce Contro Gesù Si sta facendo Strumento Della prova A cui Satana Lo sottopone Il Vangelo Lo aveva annunciato Al termine Del racconto Delle tentazioni Dopo aver esaurito Ogni tentazione Il diavolo Si allontanò Da lui Fino Al momento Fissato Quell'ora Quel momento È giunto E su Gesù Si abbatte E gli dice Il potere Delle tenebre La passione È l'ora in cui Gesù Dona se stesso Come ha rivelato Nella cena E come porterà A compimento Donando lo spirito Al padre Sulla croce Ma al tempo stesso L'ora in cui Si svela Il dominio Satanico Sul mondo Che si manifesta Nell'agire Dei nemici Di Gesù L'intera Passione Vedrà Esplodere La malvagità Che Satana Ispira Al cuore Degli uomini Poi però Ci sarà la risurrezione A mostrare Come questo dominio Non è assoluto Ma viene vinto Dall'amore del padre Che risponde All'amore del figlio Luca è preoccupato Ancora una volta Di non ledere La dignità Di Gesù E non ci descrive Il suo arresto Lo dà per fatto Allo stesso modo Evita di umiliare I discepoli E tace Dandolo per scontato Che essi si disperdano In estrema sintesi La narrazione Afferma Dopo averlo catturato Lo condussero via E il luogo Verso cui si dirigono È la casa Del sommo sacerdote Lì Prima ancora Di dirci Qualcosa Su ciò che accade A Gesù L'Evangelista Spostando Quanto gli altri Vangeli Narrano in seguito Mette in primo piano Il rinnegamento Di Pietro E il suo pentimento Che il primo Dei dodici Abbia rinnegato Il suo maestro Avrebbe rinnegato Il suo maestro Gesù lo aveva Preannunciato Al termine Della cena Pietro Io ti dico Oggi il gallo Non canterà Prima che tu Per tre volte Abbia negato Di conoscermi Ed è quanto accade Nel cortile Della casa Del sommo sacerdote In cui Pietro Aveva seguito Gesù Ma a nota L'Evangelista Lo aveva fatto Da lontano Pietro Non abbandona Il maestro Ma sta lontano Ne prende le distanze Al punto da cercare Di nascondersi Tra la folla Che lo aveva catturato E ora Si riscalda Il fuoco Nel freddo Della notte Non vuole Abbandonare Gesù Però non vuole Lasciarsi coinvolgere Nella sua passione Ma tre precise accuse Vengono rivolte A Pietro Da tre diversi testimoni Egli è uno di quelli Che stavano con Gesù Faceva parte Del suo seguito Egli appartiene Al gruppo di coloro Che erano con Gesù Egli è tra quelli Che erano uniti A Gesù A cui si aggiunge La provenienza Dalla Galilea Tre accuse A cui Pietro In Luca Non risponde con giuramenti Ma semplicemente Negando Egli non conosce Gesù Egli non è Dei suoi discepoli Egli non sa neanche Di che cosa Si sta parlando La distanza La distanza Da Gesù Diventa una Separazione Da lui Mentre Pietro Pronuncia il suo terzo Rinagamento Gesù si volta Verso di lui E pone su di lui Il suo sguardo Di perdono Quello sguardo Mentre il gallo Canta Provoca Provoca la memoria Di Pietro E lo riconduce Alle parole Di Gesù Alla fine Della cena Che ora Egli comprende Pienamente Prima Che il gallo Canti Oggi Mi rinnegherai Tre volte E' il momento Della conversione Del distacco Dai nemici Di Gesù E delle lacrime Del pentimento Uscito Fuori Pianse Amaramente Ogni discepolo Deve sapere Che nulla Lo garantisce Dalla sua fragilità Ma più forte Di essa E' l'amore Del Signore Il cui perdono E' capace Di muovere A conversione Così che si possa Realizzare La missione Che ci ha affidato Nello sguardo Di Gesù Si compie Quanto Egli aveva Preannunciato Simone Simone Ecco Satana Vi ha cercato Per vagliarvi Come il grano Ma io Ho pregato Per te Perché la tua fede Non venga meno E tu Una volta convertito Conferma I tuoi fratelli Luca A questo punto Sposta La scena Degli oltraggi Di cui ha fatto Oggetto Gesù Mentre Marco E Matteo Essi fanno Seguito Al processo E sono una Conseguenza Della condanna E Luca Essi precedono L'interrogatorio Di Gesù E rappresentano Un passatempo Delle guardie Prima che il Sinedrio Cerchi di Formulare le accuse Contro di lui In quello stesso cortile In cui Pietro Aveva rinnegato Gesù Ed era stato raggiunto Dal suo sguardo Di misericordia Si svolge ora Una scena Crudele Che ha il carattere Dello scherno Ad agire Sono le guardie Che hanno in custodia Gesù nel palazzo Del sommo sacerdote Seguiranno altri scherni Verso Gesù Nel corso della passione Da parte di Erode E dei suoi soldati E in seguito Da parte dei soldati romani Sotto la croce Ora È il turno Di questi uomini Che sono al servizio Del sinedrio Che scherniscono Gesù Mettendo in dubbio Che gli sia davvero Un profeta Fai il profeta Chi è che ti ha colpito? Per provocare Il suo potere profetico Lo battono Ma Luca Ma Luca ferma qui I gesti violenti Che omigliano Gesù Mentre negli altri Vangeli Su di lui Oltre alle battiture Cadono gli sputi E gli schiaffi Gesù Non risponde Alla provocazione È il vero modello Del martire Che negli atti Degli apostoli Troverà imitatori In Stefano In Pietro In Paolo Il rifiuto di Gesù Come profeta È l'inizio Di una incomprensione Che porterà poi I suoi giudici A rifiutarlo Come Messia E come figlio di Dio Lo vedremo Per questo L'insieme Dell'agire Di questi uomini Viene definito Blasfemia Come sarebbe Da rendere alla lettera La traduzione attuale Dice E molte altre cose Dicevano contro di lui Insultando In realtà Bisognava scrivere Bestemmiandolo Si bestemme il profeta Il Messia Il figlio di Dio E finalmente Appaiono In persona I nemici di Gesù Appena fu giorno Si riunì il consiglio Degli anziani Del popolo Con i capi Dei sacerdoti E gli iscrivi L'evangelista Specifica Che questo consiglio Costituisce L'organo di governo Del popolo ebraico Al tempo di Gesù Il Sinedrio Quel che accade Al momento in cui Gesù è condotto Davanti a questa assemblea Nel Vangelo di Luca Assume caratteri Ancora una volta Diversi Rispetto agli altri Vangeli Non vengono fatti nomi L'insieme dei membri Del Sinedrio Agisce All'unanimità Non vengono addotti Testimoni Contro di Gesù Sebbene si parli Di testimonianze Ma di cui non c'è bisogno Il confronto Non si conclude Con una condanna Anche se essa È implicita Nel fatto che Gesù Viene deferito Al tribunale romano Come si vedrà in seguito Tutto questo Corre a esaltare La figura di Gesù Chi l'interroga Resta nell'ombra Mentre le sue parole Illuminano Chi egli Davvero sia Perché questa È proprio la questione Chi è Gesù E la sua identità Si compone Di due elementi L'elemento messianico E l'elemento divino Su questo vertono Le domande del Sinedrio Se tu sei il Cristo Messia Dillo a noi Seconda domanda Tu dunque sei Il figlio di Dio La prima risposta Di Gesù È un'accusa Anche se ve lo dico Non mi crederete Se vi interrogo Non mi risponderete I suoi giudici Non sono imparziali La loro ricerca Non è sincera Non sono disposti A un confronto aperto A cambiare parere Ascoltando una risposta Poi però Gesù Accetta di rispondere Alla prima domanda Quella sulla sua identità Come Cristo Come Messia Risponde di sì Applicando a se stesso L'immagine Del Messia Intronizzato Alla destra di Dio Del Salmo 110 Ma non accetta Che coloro Che pensano Il Messia Come una figura Con implicazioni Nazionalistiche E politiche Possano ritenere Che gli pure pensi così E quindi aggiunge Che egli È il figlio Dell'uomo La figura Escatologica Del libro di Daniele Che partecipa Del potere stesso Di Dio Ma in un senso Trascendente E spirituale Lo ripeterà Pietro Nella sua predicazione Negli atti Gesù è sì Il Messia Ma non come lo intendono I suoi interlocutori Bensì al modo Del figlio Dell'uomo Inviato da Dio Per instaurare Il suo regno Nel mondo I sinedriti Comprendono Quanto Gesù Ha detto loro E per questo Formulano La seconda domanda Come una conseguenza Della sua risposta A Gesù Che ha rivendicato Una dimensione Non politica Ma trascendente Della sua messianicità Chiedono Tu dunque Sei il figlio di Dio? La risposta di Gesù È netta Ma formulata in un modo Che implica Il coinvolgimento Di chi ha fatto Quella domanda Voi stessi Dite Che io lo sono Non tocca a Gesù Dire di sé Ciascuno Ciascuno deve dirlo Guardando le sue azioni E ascoltando le sue parole Vale per i membri del Sinedrio E vale per ognuno di noi Non riconoscere in Gesù Il figlio di Dio È la premessa del suo rifiuto E della sua persecuzione Un dramma Che continua nella storia In quella presenza di Cristo Che è la sua Chiesa Ma anche Nella umanità dei poveri Ogni giorno Si vive nuovamente La passione del Signore La passione del Signore La passione del Signore La passione del Signore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Applausi. 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 Applausi.